It's the dream Oh, siamo pronti! La nave è pronta! Finalmente! Potremmo partire dal nostro pianeta che è notte Avrei voluto aspettare magari un po' più giorno, però dai, pazienza, su! È un po' piccola, eh! Vabbè, pazienza! Cos'è sto coso? Bene, allora, com'è che funziona per decollare a shift? Che figo! Allora, così, R, ti ne premuto cos'è? No? No! Aiuto! Aiuto! Oh, bello il nostro pianeta! Non riesco! Prendiamo di mira un pianeta! Un pianeta a caso! Quello! Andiamo in quello! Oh, no, cacchio, ci stiamo avvicinando! Il pilato automatico sa anche atterrare per caso! Oh, no! Oh, no! No, ho sbagliato! No, non è shift! Dove sta fattendo? Oh, mio Dio! Cosa sta succedendo? Dove sono entrato? Oh, mio Dio! No! Cosa sta roba? Ma è mare? Eh? Cosa? Non capisco più niente! No, dove sono finito? È mare, qua? Beh, questo coso è molto inquietante! No, no, no! Sì, c'è il posteggio! C'è il posteggio! Ho trovato posteggio! No, no! Ho mancato il posteggio! Ok! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono riuscito a posteggiarmi! Sono riuscito a posteggiare! Oh, abbiamo trovato posteggio! Fantastico! E ora scendiamo! Che bello! No! Beh, madò! Cos'è? Ma ci sono un sacco di altri... Ci sono anche altre cose! Che figo! Allora, là abbiamo un uragano che non andiamo assolutamente a trovare! Pericolo! Materia e... Ectoplasmatica individuate nelle vicinanze! Aiuto! Cos'è sta roba? Roba plasmatica! Sì, ho capito! Ma... Segni vitali critici! Torna la nave! Guarda! Torna la nave! Torna la nave! Ok! Sentite! Io forse me ne vado da questo pianeta! Però lì c'è col roba buona! No, 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 no! Dai! No, no, no! Dai! Io vado a vedere! Io voglio vedere! Vai! Atterra qui! Atterra qui! Atterra qui! Atterra qui! Atterra lì! Atterra lì! Porca bufò! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ok! Oh! Scusate! Ok! Perfetto! Scendi dal portellone! Che allora abbiamo trovato... Cioè, l'unico posto che abbiamo trovato era tossico! Abbiamo il jetpack! Però che non riesce a funzionare molto bene perché la gravità... Troppo! 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 Che succede? Cos'è successo? Cos'è successo? Cosa? Perché siamo usciti dal pianeta? L'astronave! 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 No! Astronave! Ho perso l'astronave! No! Dove cacchio sono finito? Cosa sta succedendo? Aiuto! Sono stato risucchiato di nuovo dal pianeta! Madonna! Dove... Ah! Le pietre! Cosa succede? No! Non di nuovo! Ah! È l'uragano questo! Eh! Porca vacca! L'astronave è tornata! Arriva! Ci sono! Ci sono! Ci sono! No! No! Stiamo tornando dal pianeta! Stiamo tornando dal pianeta! No! Aia! Che male! Aia! Che male! Che male! Aia! Sono morto! Che male! Che male! Che male! Che male! Che male! Che male! Grazie a tutti.